FAMOSO PER LE SUE SCOPERTE Agli inizi del contatto organizzato con i piani superiori di esistenza, il francese Claude Bernard, 1813-1878, famoso per le sue scoperte in fisiologia, propose per il fenomeno dell'ectoplasma la tesi dell'idea direttrice, secondo cui la crisalide sembra sciogliersi letteralmente in una sostanza morfa che si ricostituisce poi in un insetto perfetto. Per il Bernard, nelle formazioni ectoplasmiche, una parte del corpo dello strumento si scioglierebbe in una notevole quantità di energia vitale, come accadeva con Elisabeth de Speranz, 1848-1919. Tale energia potrebbe comportarsi anche come energia luminosa nei fenomeni di bioluminescenza, come avviene, chi scrive può testimoniarlo, presso lo storico cerchio e seno. Fino ad oggi resta però l'indecifrabilità per la mente di tutti i fenomeni paranormali.